Musica TSO lo studente parla al sindaco di Fano Massimo Seri il 18enne è andato volontariamente in ospedale e il provvedimento l'ho firmato solo dopo quello che è successo al pronto soccorso alcuni dati però sono sensibili e non possono essere rivelati A Marotta un furgone cassonato è rimasto incastrato nel sottopasso delle rane conducente il leso e verifica il ponte Giornata internazionale dell'infermiere la presidente provinciale dell'ordine Laura Biagiotti lancia un appello e chiede di non dimenticare assunzioni e stipendi adeguati per la categoria non siamo eroi soltanto durante la pandemia Tavoli all'aperto e strada chiusa protesta dei residenti a Sassonia di Fano per le transenne in Viale Cesare Battisti auto contro mano e traffico sulla strada parallela l'assessore Lucarelli annuncia un accordo con gli esercenti la strada verrà chiusa solo nel fine settimana e quando i locali saranno pieni A Mondolfo 23 alberi con coperte di lana e paillette un progetto con la via dell'arte a cielo aperto dal titolo Natura e Abbraccio Cari telespettatori buonasera bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia apriamo con la conferenza stampa convocata questa mattina dal sindaco di Fano Massimo Seri che a distanza di una settimana dalla firma dell'ordinanza con la quale aveva disposto il TSO per lo studente fanese ha voluto ricostruire i fatti tanti però i dubbi che rimangono ancora perché alcuni aspetti sono coperti dalla privacy e quindi rimangono riservati sono rimasto in silenzio in questi giorni per tutelare il giovane studente oggi però mi sento in dovere di fare chiarezza viste le diverse ricostruzioni dei fatti che non corrispondono alla realtà è stata questa la premessa del sindaco di Fano Massimo Seri intervenuto oggi sul TSO firmato per il diciottenne che ha rifiutato di indossare la mascherina in classe innanzitutto ha precisato Seri durante la conferenza stampa che Fano TV ha trasmesso in diretta il ragazzo non è stato prelevato da scuola con forza perché all'arrivo delle forze dell'ordine lo studente stava uscendo insieme a un medico e volontariamente ha deciso di recarsi al Santa Croce i vigili urbani e il 118 sono arrivati a seguito della chiamata al 112 fatta dalla dirigenza del Polo 3 inoltre il provvedimento è stato firmato non per quello che è successo a scuola ma per quanto accaduto al pronto soccorso dove però rimangono diverse ombre siccome la prima narrazione è quella che ha scatenato tutto il mondo cioè quella che è dell'emissione di un TSO legata al fatto che una persona non mettesse la mascherina non corrisponde a verità ormai è conclamato però nell'immaginario collettivo questo non emerge quando parliamo di sanità ovviamente ci sono le competenze mediche un sindaco ha un ruolo che deve tener conto di quelle che sono anche le indicazioni che arrivano perché poi se non si tengono conto possono esserci anche risvolti diversi poi nessuno ha certezze in tasca io faccio anche un altro esempio se capita che degli ingegneri fanno delle relazioni che un ponte o una struttura o un edificio non è stabile è chiaro che il sindaco emette un'ordinanza di sgombero di vieto di accesso è chiaro che è un paragone forse anche troppo forzato però ecco vanno distinte le cose vanno fatta chiarezza vanno dette le cose per quel che sono rimane una questione delicata e complessa ha proseguito il primo cittadino che in questi giorni ha ricevuto attestati di vicinanza ma anche attacchi e minacce i dubbi sulla necessità del provvedimento derivano sia dal fatto che lo studente è stato dimesso prima dei sette giorni previsti per legge e senza essere sottoposto ad una terapia farmacologica sia da quanto accaduto al pronto soccorso qui infatti il giovane ha dato un'escandescenza solo dopo aver saputo del TSO e non prima quindi ci si chiede perché è stata firmata l'ordinanza su questo il sindaco ha precisato che alcuni dettagli non possono essere rivelati chi fa determinate accuse ovviamente le fa con una visione però mancano anche altre voci che purtroppo non possono parlare proprio perché hanno dati sensibili che spiegano anche determinate scelte che devono aiutare anche ad un'analisi poi c'è il tempo per fare tutte le verifiche se ci sono stati degli errori si verificheranno però ecco in questa fase essendo in questa situazione anche difficile fare una narrazione precisa creando senza creare troppa confusione nella gente allora ecco anche questa occasione era per mettere alcuni paletti pur nella complessità per fare più chiarezza intanto genitori e insegnanti hanno lanciato una petizione per chiedere le dimissioni del sindaco Seri poche invece le persone in città che sono informate sui fatti o comunque in tanti non erano disposti a esprimere pubblicamente un parere sulla vicenda sentite centinaia di post e di commenti sui social messaggio alla nostra redazione è un dibattito che non accenna placarsi persone di tutta Italia stanno esprimendo opinioni sul caso del TSO disposto mercoledì scorso per lo studente del Battisti molti fanesi però non sembrano informati e in tanti questa mattina hanno preferito non rilasciare interviste e non dare giudizi senza conoscere prima e nel dettaglio la dinamica dei fatti non è che sono molto informato però sono contento che quel ragazzo si sia un pochino sistemato che sia stato un po' anche protetto da qualche uno da qualche avvocato se fosse stato figlio mio avrebbe avuto piacere che mi avessero interpellato anche me prima però tutto è bene quel che finisce bene speriamo che questo ragazzo per una cosa così non abbia delle ripercussioni comunque sia dovuto per forza proteggersi perché se non faceva niente sarebbe stato macchiato per sempre solo da una stupidaggine così mi è dispiaciuto solo quello non so che dire per il ragazzo o per il signor? il ragazzo per il ragazzo molto anche lei è d'accordo? diciamo che le regole giustamente vanno rispettate al limite si poteva mandare il ragazzo a casa nel senso che non in presenza perché però ecco questo si poteva fare magari senza non so poi non ho capito bene l'evento di come è andata per filo per segno di conseguenza mi è difficile anche star lì dietro però ecco dispiace sia per uno che per l'altro perché comunque anche per un sindaco trovarsi in una situazione del genere non è piacevole tutto lì salve buongiorno posso chiederle che idea si è fatto sul TSO del ragazzo ha seguito un po' la vicenda il sindaco ha fatto bene a firmare? non so neanche di cosa no non l'ho seguito se non attemperava i regolamenti non dico il TSO ma comunque qualche provvedimento prima a prenderlo poi non ho seguito quindi magari dico anche delle bagianate con lei da che parte sta? il sindaco dalla parte del ragazzo sicuramente non si fa un TSO un ragazzo che non vuole mettere la mascherina comunque sia si media si sta attenti ci si parla col ragazzo sono passate due ore anche se ne passano sei quindi dovevano trovare una soluzione alternativa? certo potrei dire delle stupidaggini è meglio che non mi esprimo perché dovrei informarmi prima ho sentito la cosa ma non sono come ripeto sufficientemente informato dovrei capire bene quello che è successo intanto è stata lanciata una raccolta firme da genitori e docenti sul documento cartaceo si legge dopo il gravissimo episodio avvenuto il 5 maggio e la responsabilità unica del sindaco che grazie al principio di sussidiarietà poteva e doveva fermare il TSO lo ha invece firmato chiediamo le immediate dimissioni a portare a conoscenza della petizione che sta girando in tutta Italia è stato l'ex assessore Davide Rossi che ha deciso di mettere la sua firma perché ha detto è stata violata la libertà personale un diritto sancito e garantito dalla nostra Costituzione la vicenda di questo ragazzo secondo Rossi doveva essere gestita in maniera diversa dalle istituzioni scolastiche dalle autorità sanitarie e dal sindaco io ho ritenuto di firmare la richiesta di dimissioni perché la difesa chiamiamola così che ha fatto finora il sindaco della sua scelta è una difesa secondo me che mostra la inadeguatezza e scarsa consapevolezza del suo ruolo il sindaco firma l'ordinanza restrittiva lui è vero che la firma su richiesta di psichiatri sanitari ma lui se ne assume la responsabilità perché dovrebbe svolgere in questa procedura di TSO una funzione di garanzia proprio nei confronti della persona verso cui il trattamento è rivolto se lui dice che non era conoscenza in realtà della concretezza del caso ma si è limitato ad aderire è una confessione di inadeguatezza è una confessione di aver sbagliato sostanzialmente siccome in questo caso c'è di mezzo la vita di una persona molto giovane non può passare a trallucci e vino questa cosa d'altra parte invece ci sono cittadini che stanno dalla parte del sindaco io penso che bisogna andare quello che dicono la giustizia mettere le mascherine quando si deve mettere non fare queste alzate di testa perché ce ne andiamo tutti di mezzo io non sono io sono col sindaco ed è giusto che bisogna prendere dei provvedimenti non solo a scuola ma anche in altri luoghi anche così drastici dice lei se serve per me sì perché le mezze misure non esistono e le mezze misure non funzionano purtroppo è un autocarro furgonato chiuso di 35 quintali è rimasto incastrato sotto il sottopasso delle rane nel comune di Mondolfo è successo oggi intorno alle 13.30 il conducente un settantenne del posto che era di ritorno dal mercato cittadino stava percorrendo la strada dalla zona mare verso la statale adriatica quando è rimasto incastrato col furgone sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Mondolfo e due mezzi dei vigili del fuoco di Fano che hanno chiuso il ponte per circa un'ora al tempo necessario per le operazioni di traino del veicolo l'ambulante ne è uscito illeso e sono quattro i decessi legati al covid che si sono verificati nella nostra regione nell'ultima giornata nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese invece i nuovi positivi sono 230 di cui 84 nella provincia di Pesaro Urbino che rimane quella con più casi negli ospedali delle Marche ci sono 17 ricoveri meno rispetto a ieri pazienti in terapia intensiva scendono a 51 quindi meno 2 quelli in semi intensiva a 94 con 9 persone in meno nelle ultime 24 ore in occasione della giornata internazionale dell'infermiere che si celebra oggi la presidente provinciale dell'ordine Laura Biagiotti lancia un appello e chiede di non dimenticare la categoria che anche dal punto di vista economico si è dovuto attendere un'emergenza sanitaria di questa portata ha detto per apprendere che non è possibile una sanità senza infermieri siamo sempre degli eroi Angelica Panzieri in tutto il mondo oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere una vocazione per molti che da oltre un anno e mezzo stanno combattendo in prima linea la battaglia del covid figure fondamentali all'interno del sistema sanitario che chiedono oggi più che mai di non essere dimenticate ne abbiamo parlato con Laura Biagiotti presidente provinciale dell'ordine degli infermieri un infermiere che quanto mai in questo periodo di pandemia ha trovato un suo spazio veramente vitale ha dimostrato di avere forza e coraggio di affrontare tutte le situazioni più difficili in sinergia sicuramente con tutte le altre professioni sanitarie tecniche e amministrative un infermiere che non si è mai tirato indietro pur avendo tutte le difficoltà che ci potevano essere in questo periodo di pandemia la cosa che ci preme di più è pensare di non essere dimenticati perché eroi non lo siamo stati solo nel momento della pandemia ma lo siamo sempre fin dal primo giorno che decidiamo di iscriverci al corso di laurea fin dal primo giorno che decidiamo di prendere in braccio questa professione e questa professione che sicuramente ci ha dato l'opportunità di dimostrare in questo periodo quanto valiamo e la cosa più importante a nome di tutti che voglio dire è che la politica tutto il sistema sanitario non si dimentichi che è una professione in questo momento sicuramente da valorizzare economicamente e soprattutto da rendere più libera cioè svincoliamola da quel rapporto di subordine per dare aiuto a tutte quelle strutture private sul territorio che necessitano di infermieri La Commissione Sanità della Regione Marche ha approvato la proposta di legge che contiene disposizioni relative agli operatori sociosanitari tra le principali finalità ci sono quelle del riconoscimento della figura professionale dell'OS della valorizzazione delle competenze della formazione adeguata e di qualità tutte perseguite anche attraverso l'istituzione di un elenco regionale degli operatori e degli enti accreditati per la formazione e l'organizzazione dei corsi e adesso diamo spazzo alle vostre segnalazioni perché alcuni residenti della zona di Sassoni hanno lamentato la chiusura di un tratto di viale Battisti dovuta dalla necessità di concedere spazi all'aperto alle attività economiche ad annunciare un accordo è l'assessore del comune di Fano Eter Lucarelli Guarda questa macchina Guarda che roba E' uno dei video arrivati nei giorni scorsi alla nostra redazione per segnalare e chiedere l'apertura del tratto finale di viale Cesare Battisti che collega a viale Adriatico a viale Dante a Ligieri all'altezza dell'anfiteatro Rastat Infatti anche a Sassonia di Fano il comune ha concesso ai ristoratori di poter lavorare all'esterno viste sia le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria sia i divieti imposti dal governo così per mettere per mettere in sicurezza la strada la strada la strada è aperta perché verrà chiusa soltanto nel momento di vera necessità dei locali quindi quando i locali avranno prenotazione quanto saranno pieni quindi soprattutto nel weekend allora via Battisti sarà chiusa altrimenti per tutto il resto della settimana e anche per le sere dove non ci sarà bisogno in un qualche modo rimarrà aperta quindi un accordo trovato direttamente con gli esercenti ma credo che in questo periodo così difficile particolare l'unica strada per in qualche modo vivere al meglio per poter lavorare in questo periodo così difficile sia proprio trovare questi accordi tra persone attivare un dialogo ed in questo noi ovviamente sia con gli operatori economici sia con la parte residente rimaniamo sempre completamente disponibili ovviamente questa misura si attenuerà nel momento in cui i decreti permetteranno i locali anche di lavorare all'interno le mostre mercato si possono svolgere in zona gialla perché sono assimilabili ai mercati tradizionali che in base al dpcm del 2 marzo possono esercitare la loro attività lo chiarisce alla regione Marche che ha inviato ai comuni alle associazioni di categoria e a quelle dei consumatori un contributo interpretativo della norma firmato dal vicepresidente Mirco Carloni andiamo a Mondolfo dove continua il progetto galleria senza soffitto l'esposizione d'arte che si arricchisce con natura e abbraccio gli alberi dei giardini della Rocca sono stati ricoperti da 23 vestiti e 5000 metri di lana alberi ricoperti dall'abbraccio di grandi coperti e dalle luminescenze di migliaia di paellette argento un luogo che è scaldato dai ricordi e che invita a dimenticare almeno per un attimo le angosce e le tensioni per immergersi in quel calore che soltanto le emozioni possono offrire dall'8 maggio i giardini della Rocca si aggiungono a Mondolfo galleria senza soffitto l'esposizione d'arte per le vie di uno dei borghi più belli d'Italia promossa da Proarte Mondolfo guidata da Filippo Sorcinelli col patrocino del comune arte e natura sono connesse in questa nuova installazione con un lavoro fatto di oltre 5000 metri di lana e 23 vestiti di diametro che va dai 50 cm ai 2 metri la natura si veste di colori quest'arte è nota come yarn bombing ma anche come graffiti di lana è già presente in tantissimi angoli del mondo e con orgoglio la portiamo nel nostro comune è stato un lavoro impegnativo come peraltro lo era stato quello dell'albero di Natale all'uncinetto che è durato circa tre mesi si vuol dare l'idea di una natura che si ricopre di abbracci colorati e quindi dare un senso di calore e di allegria a questo luogo a questa iniziativa faranno seguito numerosi altri interventi permanenti per arricchire promuovere condividere l'arte e la bellezza veicoli di forte richiamo per il turismo gli studenti gli artisti stessi ma anche per i cittadini primi fruitori e collaboratori sociali del territorio ci siamo adoperati con i soldi risparmiati grazie alla decurtazione di una parte delle indennità di assessori e sindaco abbiamo realizzato dei nuovi giochi all'interno del parco del parco stesso e nello stesso tempo con un progetto promosso dalla Proloquo Tre Colli e coordinato da PAM all'interno di Galleria Senza Soffitto è stato arredato con della lana e con della stoffa glitterata questo bellissimo parco ci apprestiamo oggi a aprire questa installazione che è una sorta di filo conduttore proprio come il filo di lana tesse la tela rappresenta la nostra collettività che senza la condivisione degli intenti senza l'abbraccio proprio vero e fecondo tra le associazioni non si può non si può promuovere quindi sono ben felice di accogliere questa grande installazione che fa da cappello a tutte le installazioni che verranno e verranno promosse nel corso dei mesi come amministrazione ringraziamo tutte quelle associazioni del territorio che con grande passione e con tanti volontari si impegnano per rendere sempre più bello e accogliente il nostro borgo a Urbino sabato alle 18.30 verrà inaugurata la collocazione della riproduzione della tomba di Raffaello nella chiesa annessa all'ex convento dei carmelitani scalzi dedicata alla Santissima Annunziata l'allestimento è stato curato da Vittorio Sgarbi l'opera è stata realizzata nel 2020 in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della morte del genio del rinascimento e faceva parte della mostra allestita a Roma nelle scuderie del Quirinale finite le celebrazioni la riproduzione realizzata dalla spagnola Factum una fondation è stata donata alla città di Urbino e domani invece i riflettori sportivi nazionali e internazionali si accenderanno sulle Marche e sulla città di Ascoli Piceno a Colle San Giacomo è previsto l'arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia che partirà dalle grotte di Frassassi alle 12.55 alla presenza del governatore Francesco Acquaroli e poi attraverserà la città delle 100 torri prima della scalata finale al termine della tappa ci si sposterà nel centro storico di Ascoli Piceno nel chiostro di San Francesco dove intorno alle 18.30 verrà presentato il libro dal titolo Marche e Terre di Grande Ciclismo del noto giornalista e scrittore Beppe Conti tra poco trasmetteremo un'inaugurazione di uno spazio aperitivi che è all'interno di un noto ristorante di Cerasa e poi vi riproporremo la conferenza stampa che è stata convocata questa mattina dal sindaco di Fano Massimo Seri sul TSO disposto per lo studente fanese grazie per la vostra attenzione arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti